Mi chiamo Arianna e mi è piaciuta tantissimo venire su questo posto, perché non abbiamo occasioni. Io mi chiamo Alessa e la mia vita è da sballo. Mi chiamo Davide ed è stato stupendo, bellissimo. È una cosa bellissima avere l'opportunità di poter fare delle cose del genere. Molta gente che viene qui si ritrova a essere ben distante dal pensare di poter fare delle cose del genere, ma grazie a questa realtà è sempre possibile provare di nuovo un brivido, riuscire a fare delle cose che mai nessuno avrebbe pensato. Non pensavo che riuscesse a salire, perché è un po' diffidente di solito. Invece è andato al primo, prima chiamata è andato subito e si è divertito, è stato molto contento. Poi ha fatto altri due giri e l'ho visto molto soddisfatto. Vero Ali? Eh. Alcina. Questo è veramente un lavoro di squadra e noi sappiamo che questo è l'inizio di un lungo percorso, ne abbiamo la certezza. Un bel divertimento, bella ragazza, bella musica, così si può ottenere più della vita. Una novità, abbiamo fatto provare l'emozione del fuoristrada sempre ai ragazzi. Io mi sono esibito con il kart cross, ma soprattutto con i side by side, dove anch'io potevo regalare la mia pastione per i motori agli altri, quindi fare salire al mio fianco e sgasare come non ci fossero domani. Oh no, oh no! 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 Super giornata secondo me per tutti, io ho visto tutti i ragazzi che hanno partecipato veramente contenti, divertiti. Noi volontari torniamo a casa più arricchiti di ieri con un'energia nuova. Vanno ringraziate tutte le persone che hanno permesso questo, in primis Mattia ovviamente, all'amministrazione e tutte le persone che hanno messo a disposizione il loro tempo. dietro alle quinte c'è sempre tanto lavoro, c'è sempre tanto sacrificio e tanto impegno e tante volte mi chiedo chi me lo fa fare e vedere i sorrisi, gli abbracci dei ragazzi è una cosa veramente strepitosa, riempie il cuore di gioia ed è un'emozione unica. Quindi, ragazzi, crossabili io, ormai è una garanzia.